www.feyyaz.tv la scatia 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 Perfetto, perfetto lì, eh? Sì, sì, dove ci stiamo? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. No, però dovremmo stare allargati, beh, a parte che va bene così, ma se ti allarghi un attimo, guarda lì che sta arrivando qualcosa. No, carpe, carpe, sono due carpe, era una fila indiana e sembrava un siluro. Sì, sì, l'ho visto arrivare giù, l'ho visto arrivare. E l'ho accesa proprio nel momento in cui mangiava. Sì, comunque c'è tutta, a me ti pensi tu, come vuoi, anche con il guadino, hai preso il guadino. Eccola qui, eh, guarda qua, ah, questa è la carta, c'è una, c'è l'altra. Ah, ce l'avevi tu, il guadino. Vediamo un po' se ci sta. Stai calmo un attimo. Eccola qui, eh, guarda qua. Questo è un segno. Eccola qui. Eccola qui. qua. Eccola qui. Questo è stato morso. Ah, un segno qua e un segno qua, guarda. Ma non è freddo però. Però è qualcosa che l'ha morso. Però va di passare. Sì, sì. È proprio della... È qualcosa che è stato... L'ha morso da una parte... Bello. È strano che sia passare. Vai. Che sia stato l'uomo con qualche... Cosa vuoi che sia? È un segno strano però. Sì, sì. L'ho visto che scendeva. Infatti non era una cattiva idea da dispassermi o da aspettare. Ma forse... Forse non è un... Aspetta. Ma... No, no. Ma... Se ha mangiato, eh, questo. Ma no, è rampinato. Dove è il godino? Qui... Beh, è che faccio casino. Questa è la cinza mia, è proprio da parte. Sì. Perché... Qui... Mi chiamano che la regione e la functions. Beh... È che faccio casino. Questa è una farmace. La farmace ci ha... È una farmace. Questa è una farmace d'ordine. Guarda, che c'è la farmace. Ho l'amplisato. Ma questa è una farmace. Ma questa è una farmace. pesci grandi guadino grande non ho fatto apposta è amica ciao bella ciao ci vediamo un'altra volta